Lavori stradali, l'ANAS Gruppo Ferrovie Italiane con una ordinanza del responsabile dell'area compartimentale dispone la chiusura al traffico della corsia in direzione SS18 Variante Agropoli sul viadotto di Scavalco alla rotatoria di raccordo dello svincolo di Battipaglia, a partire da lunedì 19 novembre fino al 5 dicembre nella fascia oraria dalle 7.30 alle 16.30. Inoltre viene comunicata anche la chiusura al traffico nello stesso tratto della corsia in direzione A2 sul viadotto di Scavalco alla rotatoria dello svincolo di Battipaglia, a partire dal 6 e fino al 21 dicembre della fascia oraria dalle 7.30 alle 16.30, esclusi i giorni festivi e prefestivi.